Anche il Movimento 5 Stelle ha deciso di scendere in piazza? Sì, da oggi e per tutta la campagna elettorale il sabato mattina saremo in questa piazza e cercheremo di spiegare ai cittadini terramani qual è il nostro programma, quali sono le ambizioni di questo movimento e sono anche qui per farmi conoscere, visto che più di qualcuno mi dice ma chi è questo sindaco? Eccolo qua, candidato sindaco Rocchetti Cristiano per il Movimento 5 Stelle Terramo. Si sono avvicinate molte persone? Tante, tante facce nuove per me anche, però tutte con la voglia di trovare in me, nel nostro gruppo, nel movimento, un'idea di cambiamento. Vi danno anche qualche consiglio, fanno qualche proposta? Sì, fortunatamente c'è una cittadinanza sveglia che vorrebbe dire la sua ma che in questo periodo non ha avuto mai la possibilità di parlare con questa amministrazione che è stata sempre chiusa nelle sue istanze e non ha mai avuto modo di parlare con noi. Noi siamo qui, stiamo parlando e stiamo raccogliendo bei spunti per cambiare le sorti di questa città.